Stavano per mettere a segno una rapina in una banca del centro a Capodorlando e per questo erano giunti dalla provincia di Siracusa pronti ad agire. E' questa l'ipotesi della polizia del commissariato di Capodorlando che stamattina ha fermato 5 persone, due delle quali di Tortorici ma residenti nel Siracusano e le altre 3 residenti in quella provincia che si trovavano a bordo di un'auto posteggiata nel parcheggio di Piazza Losardo. A tradirli il loro nervosismo quando i poliziotti che stavano svolgendo un normale servizio di controllo si sono avvicinati per chiedere i documenti. A quel punto gli agenti hanno scoperto che uno di loro era sottoposto ad obblighi di sorveglianza e dopo un rapido controllo della vettura hanno recuperato alcuni taglierini ed altri elementi che fanno pensare ad un tentativo di rapina. In commissariato è giunto anche il magistrato di turno al Tribunale di Patti per interrogare 5 ma non è ancora al momento noto il provvedimento che verrà adottato. Anche le notizie sono al momento frammentarie visto che la vicenda è stato possibile ricostruirla grazie ad alcune testimonianze di persone che si trovavano nell'area di sosta degli autobus e che hanno assistito alla scena. Impossibile inoltre capire quale delle banche cittadine fosse finita nel mirino del gruppo.